Settimana di Pasqua che vedrà un super anticiclone interessare gran parte dell'Italia, possiamo notare come i suoi massimi saranno proprio sugli stati centrali del vecchio continente ma interesserà anche l'Italia, quindi questa palla anticiclonica favorirà temperature primaverili da nord a sud solo le estreme regioni meridionali, quindi la Puglia, la Basilicata, la Calabria e la Sicilia vedranno un po' di variabilità di intanto in tanto isolatissimi piovaschi sull'Appennino meridionale perché sarà molto vicina proprio sulla Grecia e la Turchia, un'ampia zona di bassa pressione alimentata ancora ad aria un po' fredda, quindi le temperature un po' più contenute tra basso adriatico e versante ionico, altrove invece Campania, regioni tirreniche ma anche al nord, valori che andranno oltre i 20 gradi con la nuova settimana, ovviamente durante la settimana. Le ore centrali del giorno, seguite i nostri aggiornamenti sul sito web.